Insegnare i nonni la bici del computer, un'impresa possibile per i giovani del liceo scientifico Belfiore i quali hanno affiancato signore e signori nell'apprendere le basi dell'informatica con un programma di digitalizzazione dedicato agli anziani. Con una serie di lezioni che proseguiranno una volta a settimana, Poste Italiane ha voluto promuovere questa iniziativa non solo a Mantova, ma anche a Roma, Napoli, Palermo, Asti e Ascoli Piceno. Mamma mia, è già il secondo corso che faccio. È il secondo corso. Siamo di altri tempi. Piano, sì, ci mancherebbe altro, però è una persona esperta, ci guida meglio, è logico. Qualcosina si impara dalla televisione, però in modo pratico averlo vicino è tutta un'altra cosa, è una cosa fondamentale. Sì, Poste Italiane ci ha avanzato questa proposta, noi l'abbiamo accolta subito con grande favore, proprio perché riteniamo che questi ragazzi che frequentano l'indirizzo delle scienze applicate abbiano la capacità di poter insegnare ai cosiddetti nonni ad andare in rete e a muoversi agevolmente nella rete e quindi diventare autonomi. Inoltre riteniamo che questo possa completare un loro percorso formativo come di cittadini attivi e di cittadini consapevoli. Tra click, mail, portali, desk e altre diavolerie informatiche, i nonni mantovani sono quindi pronti alla sfida per entrare di diritto nel XXI secolo al fianco dei loro nipoti.